Siamo a Predappio e alle mie spalle vedete la Casa della Fascio, una struttura la cui collocazione urbanistica e estetica era stata definita non solo ai fini della sua funzionalità burocratica, ma anche della sua funzione pedagogica e propagandistica. Oltre a sede degli uffici del partito, la Casa doveva essere il centro della vita sociale e politica. Fin da subito, da quando sono sindaco, ma prima di me gli altri sindaci, ci siamo sempre posti la domanda su come poter recuperare, come trovare le risorse e riuscire poi a donarlo di nuovo alla comunità di Predappio. Da molti anni l'edificio si trovava in stato di abbandono, ma ora la Casa del Fascio sta andando incontro ad una seconda vita. Diventato ufficialmente proprietà del comune di Predappio, l'edificio verrà presto riqualificato. Il progetto è quello di farlo diventare un centro multifunzionale di elaborazione culturale nazionale ed internazionale della storia del Novecento. Sono 2400 metri quadrati calpestabili, suddivisi in tre piani, c'è una torre alta 40 metri, 5 tipi di marmi. Predappio può essere, data la sua notorietà, un luogo di studio e approfondimento della storia del Novecento, in particolar modo il Ventennio. Quindi quello dovrà diventare qualcosa che oggi non esiste, c'è un centro studio e documentazione sul Ventennio. Costo dell'operazione? I costi sono quantificati in 5 milioni per il recupero architettonico dell'immobile, mentre invece ci vorranno un milione e mezzo, due milioni per l'allestimento e la gestione, che avverrà attraverso la nascita di una fondazione ad hoc entro quest'anno.